Secondo match interno per la molisana Magnole a Campobasso che nel quinto turno del girone di ritorno ospiterà al Palavazieri la vicecapolista Palermo. Una sfida importante che potrà dare delle prime indicazioni nella parte alta della classifica. L'altro match clou sarà quello di Faenza tra le Romagnole ed il quintetto della cestistica Spezzina, rispettivamente quarta e terza forza del campionato. La gara è stata posticipata alle 20, così da consentire alle ospiti un più sereno avvicinamento logistico. Lo scorso 27 ottobre al Palamangano i Fiori d'Acciaio si imposero di 7,57 a 50, al termine di una gara fatta di grande applicazioni difensive e di attenzione alle indicazioni offensive. La vittoria palermitana è stata un po' la gara manifesto delle qualità difensive che hanno accompagnato il gruppo Rosso-Blu in avvio di stagione. Da un punto di vista fisico non si segnalano particolari problematiche in seno al gruppo Campobassano. In settimana, per problemi familiari, ha dovuto saltare qualche allenamento l'esterne capitano Roberta Di Gregorio, rientrata però pienamente nei ranghi nelle ultime ore. Senz'altro per le Magnole una chiave di volta in grado di incidere sull'inerzia della contesa sarà quella della gestione del ritmo. Questa sarà una di quelle gare che si annunciano punto a punto ed in cui sarà importante mantenere alta la concentrazione fino alla fine, senza avere cali. Coach Sabatelli ha lavorato in settimana con le sue ragazze per prepararle al meglio in vista dell'importante scontro diretto in cui dovranno emergere le principali caratteristiche, ossia difendere nel miglior modo possibile cercando di limitare le bocche di fuoco palermitane, come Russo, Cupido, Miccio e Verona, elementi di grande rilievo. In prossimità della partita, per forte senso di ospitalità, al Palavazzieri sarà perpetuata un'iniziativa che il team siciliano ha legato anche alle altre trasferte che hanno preceduto quella Campobassana, nel novero di una campagna di comunicazione volta alla sensibilizzazione sulle tematiche civiche alla base dell'Unione Europea. Con palla a due alle venti sul parquet di Via Svevo, l'arbitro disegnato sarà Danny Lillo di Brindisi, secondo fischietto Marino Caldarola di Ruvo di Puglia. Grazie.